Musica C'è il fan timor-leste a molto coi gioventude alla mudanza al municipio Loten allo studio visita a Bahia Centro Permacultura da Terra e al municipio Bocau quarta-feira semanane C'è il fan timor-leste a il programma Agricultura Sustentável che ha obiettivo atto capacità gioventude alla mia connessione che ha lao studio visita nel bellore gruppo Juventude alla mudanza che il municipio Loten che ha connesso la lao permacultura e al centro della terra al municipio Bocau Coordenatore del progetto Juventude del municipio Loten Juvencio del Santos informa c'è il fan timor-leste a progetto una bella iniziativa che ha caro che ancora gioventù Moro Ancira a tu bella invece in questa area agricoltura per quanto riguarda la mia connessione che ha lao studio visita che ha exchange visita si municipio Loten a Bahia Bocau l'obiettivo è atto innovazione capacità di gioventù per la area agricoltura Sustentável a Bahia Bocau a Bahia Bocau e l'obiettivo di業 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.